pesce 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 oggi mangiamo il pesce se non si era capito ho cercato di il filetto di aprirlo il più possibile a coltello e ho iniziato a mettere sale pepe un po di prezzemolo facciamo un modo diverso oggi ho preso dello zenzero io l'ho grattugiato sopra quello fresco è più buono rispetto alla polvere poi ho fatto molto finemente con la mandolina le carote invece le zucchine le ho grigliate sempre con la mandolina ma poi le ho grigliate le carote invece le ho messe da crudo da crude e ho fatto questa sorta di involtini poi ho preso anche della platessa quindi filetto di platessa erano due tipi di filetti diversi branzino e platessa anche essa le ho messo il pepe sale pochissimo sale lo zenzero una fettina di zucchina e una di carota tanto poi in cottura si cuoce la carota non abbiate paura ho lasciato scongelare e scongelare il pesce così si poteva arrotolare quindi lo sciacquato per bene poi l'ho lasciato un pochino scongelare basta un quarto d'ora se lo lavate basta un quarto d'ora quindi teglia da forno patata mandolina cioè praticamente la mandolina oggi l'ho usata tantissimo proprio per far sì che non debba stare troppo nel forno ho fatto un letto di patate ho messo sale pepe naturalmente e ho preso i miei rotolini di pesce e glielo adagioati sopra cambio stè cambio ok quelle più grande dietro perfetto a incastro e quelli più piccolini tutti vicini vicini intanto accendiamo il forno comunque a 180 gradi dopo aver disposto il nostro pesce passiamogli sopra un po di pangrattato quindi pangrattato e pensavate che fosse finita così no patate sempre ecco la mandolina quindi base di patate tetto di patate quindi sotto e sopra di patate e in mezzo gli mettiamo il pesce così a modo di non bruciarsi nel forno poi ho messo pepe sopra le patate di nuovo un ciccinino di sale poco poco ok e poi olio e pangrattato così viene fuori tutta una bella croccantezza ma la morbidezza del pesce ma che bontà ragazzi che bontà in forno quindi a 180 gradi 20 25 minuti circa ve ne accorgete perché quando le patate sono belle abbrustolite perché il pesce ci vuole poco però il resto si deve cuocere eccolo qua pepe nero pronto piatto pronto servito a tavola bello caldo caldo croccante fuori e morbido dentro questa è la ricetta di oggi è piaciuta sì bene e allora come al solito come dico sempre io vi aspetto alla prossima ricetta ciao ciao